Entro i prossimi sei mesi dovrà nascere il Parco Nazionale del Matese. Lo ha deciso il TAR della Regione Lazio, presso cui avevano presentato ricorso i legali dell'Associazione Italia Nostra per i ritardi e le inadempienze di un iter che era iniziato nel 2017. La sentenza impone al Ministero dell'Ambiente l'istituzione, la perimetrazione e l'adozione di misure di salvaguardia dell'area matesina. I ritardi, infatti, sarebbero dovuti all'inadempienze istituzionale della Giunta Campana nella trasmissione degli atti relativi alle osservazioni sulla perimetrazione dell'area, richiesti dal Ministero dell'Ambiente. Documentazione che, invece, è stata inviata da tempo dalla Regione Molise. Un'inerzia che ha di fatto bloccato un'ampia serie di progetti finanziabili con fondi nazionali ed europei che avrebbero consentito la riscoperta e il rilancio di un'area che rappresenta un patrimonio per le due regioni. Il legittimo e il silenzio osservato dal Ministero di fronte a tali ritardi ed il mancato esito conclusivo del procedimento di perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta, procedimento che, secondo la normativa di settore, dovrebbe avvenire entro 180 giorni. Il giudice, nella sua sentenza, ha ritenuto di non discostarsi dal precedente del 2021 in relazione al silenzio osservato dall'amministrazione in merito alla perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino. Il Consiglio regionale del Molise intanto ha appena approvato all'unanimità la mozione a firma dei consiglieri di opposizione Salvatore, Facciolla, Fanelli, Gravine e Primiani in cui il Consiglio regionale invita il Presidente della Repubblica alla ratifica dell'atto istitutivo del Parco e chiede che la sede legale o amministrativa sia individuata in Molise, ma soprattutto che l'iter istitutivo si chiuda in tempi strettissimi. Stando a quanto dispone la sentenza del Tarlazio, in caso di ulteriore inerzia sarà nominato un commissario ad acta.